esploratori coraggiosi andiamo ad esplorare l'antico egitto carichiamo il nostro zaino in spalla e saliamo su una grande mongolfiera diretti verso il cairo atterriamo sulla sabbia rovente che scotta sotto i piedi cerchiamo subito un po di riparo all'ombra qui c'è un sole caldissimo abbiamo bisogno di proteggere bene il nostro corpo spalmiamo subito la crema solare ecco che si avvicina un pellicano ci dà il benvenuto e ci accompagnerà la scoperta dell'antico egitto pronti saliamo in groppa al pellicano e voliamo insieme a lui guardate che paesaggio incredibile ci sono delle bellissime piramidi il pellicano ci accompagna al tempio del faraone è maestoso c'è una bellissima sfinge che ci accoglie entriamo nel tempio attraverso la porta e inchiniamoci di fronte al faraone ascoltiamo bene il faraone ha bisogno del nostro aiuto hanno appena rubato la rosa di cristallo che appartiene alla regina del sole bisogna assolutamente recuperarla prima che il sole cali altrimenti la regina del sole riverserà tutta la sua collera sull'antico egitto facendo scatenare una tremenda tempesta che ne dite siamo pronti ad aiutare il faraone mettiamoci subito alla ricerca della rosa di cristallo attraversiamo il nilo sulla zattera attenzione ci sono i coccodrilli prendiamo il nostro binocolo e guardate c'è un incantatore di serpenti che suona un flauto davanti a sé ha una grossa cesta dalla quale esce fuori un serpente guardate bene il serpente ha intorno alla sua testa proprio la rosa di cristallo della regina ecco ma l'incantatore ha appena preso la cesta l'ha posizionata sulla sua testa e ora sta scappando scendiamo dalla zattera e seguiamo subito l'uomo facciamo un gran balzo e afferriamo la cesta recuperiamo la rosa e riportiamola al faraone